Grazie Presidente. Fratelli d'Italia si asterrà rispetto a questo provvedimento e si asterrà perché questo provvedimento cerca di mettere una toppa ad un lento ma inarrestabile processo di erosione della normativa speciale nata all'indomani delle stragi che hanno colpito due eroi dell'antimafia come Falcone e Borsellino e per noi rimangono eroi anche se c'è un capo del DAP in questo momento che si permette anche di fare delle battute sugli eroi antimafia. Una normativa speciale che poneva l'Italia all'avanguardia nel contrasto alla criminalità organizzata, una normativa che ha subito lenti ma inarrestabili erosioni in virtù, e lo vogliamo dire anche chi ci accuserà di essere degli analfabeti costituzionali. La leggiamo anche noi la Costituzione, leggiamo anche noi la giurisprudenza costituzionale. Riteniamo che però, in virtù di mal metabolizzati principi volti alla rieducazione della pena, si sia lentamente erosa la funzione principale della pena, che è quella, soprattutto nei confronti della criminalità organizzata, socialpreventiva e di difesa sociale, volta a scongiurare che il percorso frontale di contrasto alla criminalità organizzata possa trovare delle tappe di arresto. Innanzitutto abbiamo seri dubbi anche sul fatto che si possa ritenere per davvero che il principio di rieducativo della pena possa prescindere per davvero dalla rescissione di ogni legame con la criminalità organizzata. Cosa c'è di sbagliato nel dire? Intanto io ti posso ritenere rieducato, se sei mafioso, se sei appartenuto a quella vischiosissima organizzazione criminale che è la mafia, tu intanto puoi iniziare a lumeggiare, a tratteggiare le tue forme di pentimento, di retipicenze e di rieducazione solo se recindi ogni legame, solo se collabori con la giustizia. Ed in ogni caso, già che in quest'Aula chi fa dei gargarismi garantistici ritiene che noi saremmo degli analfabeti costituzionali, dove sta scritto che nella polifunzionalità della pena vi è un valore tiranno, che è quello della rieducazione. Non è scritto da nessuna parte. Noi vogliamo mantenere in equilibrio il valore social preventivo, il valore punitivo con quello rieducativo della pena. Noi avevamo immaginato di contrastare questa deriva che affonda le sue radici in pronunce costituzionali anche più antiche, se solo per questi colleghi, rispetto a quella 97 del 2021. Partiamo addirittura dalla sentenza 306 del 1993 per transitare a quella del 253 del 2019 per approdare alla CEDU, che riproccano una tracotanza giuridico-culturale al posto di prendere come modello l'Italia nel contrastare i fenomeni di chiamabilità organizzata, ha ritenuto di dover riprogrammare culturalmente e giuridicamente l'Italia spiegando a noi come si fa la lotta alla mafia. E noi ritenevamo, per esempio, con la nostra proposta di legge, che non sarebbe stato né blasfemo né incostituzionale richiamare come prima esigenza quella di sicurezza dei cittadini. Richiamare il fatto che proprio la sicurezza dei cittadini è alla base del contratto sociale con cui nasce lo Stato, per cui i cittadini si autolimitano nei loro diritti assegnando allo Stato il monopolio della sicurezza e della giustizia. Ed è uno Stato sicuro e giusto quello che tiene il mafioso in carcere fino a quando non offre spunti di collaborazione, fino a quando non offre spunti investigativi, fino a quando non sceglie di uscire dalla trincea dell'antistato per approdare a quella dello Stato. La funzione ed educativa della pena è un tratto essenziale, non totalitario e totalizzante della pena. E noi ritenevamo, con i nostri emendamenti, in verità anche con la nostra proposta di legge, ma anche con i nostri emendamenti, che proprio non disconoscendo la funzione ed educativa della pena avremmo potuto immaginare una proposta di legge che tenesse una serie di indici sintomatici della rescissione di ogni legame con la criminalità organizzata. Che male vi è a dire che se salta la presunzione assoluta di pericolosità sociale, si potevano inserire una serie di presunzioni iuristantum relative, vincibili dalla prova contraria di pericolosità. Per esempio, noi riteniamo che sia pericoloso socialmente il mafioso detenuto che fa l'istanza per la retrocessione della gastroestrativa o per altri benefici sia ancora pericoloso se non fornisca la prova dell'assenza dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata. E la prova la deve fornire lui. Noi riteniamo che lui, che il criminale, che il mafioso, se ha un tenore di vita all'interno del carcere eccessivo, evidentemente ancora all'interno del carcere ha manifestato il suo potere mafioso. Noi riteniamo che se lui e la sua famiglia godono di patrimoni spropositati e non commisurati alla capacità reddittuale, ebbè, quei patrimoni da qualche parte arrivano e quella parte non può che essere una parte opaca, oscura, frutto dei proventi della criminalità. Noi riteniamo ancora che l'eventuale sopravvenienza di nuove imputazioni o di gravissime infrazioni disciplinari nel corso della detenzione siano la più eloquente ed evidente ed incontrovertibile testimonianza dell'agito delinquenziale che ancora anima il mafioso. Noi riteniamo che non vi siano motivi per una mancata collaborazione. E ancora noi riteniamo che chi sia appartenuto ad una cosa che si chiama mafia difficilmente non abbia spunti investigativi da offrire. Perché o siamo consapevoli che stiamo parlando del cancro criminale di questa nazione, che ha una particolare vischiosità per la quale chiunque sia stato con un profilo criminale di un certo livello all'interno di quella organizzazione ha sempre e comunque spunti investigativi da dare, oppure stiamo trattando il mafioso come quattro correi per una rapina in banca. Non è così. Ancora, possiamo dire per esempio che se il sodalizio criminale a cui apparteneva il mafioso è ancora attivo, quel mafioso dovrà essere attenzionato maggiormente dal Tribunale di Sorveglianza prima di vedersi riconosciuti i benefici. Tradotto, il mafioso è dentro, il sodalizio fuori è vivo, è attivo, è vegeto. Lui non ha nessuno spunto investigativo da offrire, ma dirà che si è pentito e quindi meriterà i benefici. Proprio l'altro giorno il dottor Ardita, in commissione antimafia, ha ricordato a tutti voi che Cosa Nostra e le altre mafie sono organizzazioni basate sulla falsità, sulla rappresentazione teatrale delle situazioni. Ebbene, noi diciamo che sulla base della loro falsità e la loro capacità teatrale di raccontare un pentimento non misurabile, non misurato, possono uscire e tornare a flagellare quei territori che flagellavano. Noi abbiamo ascoltato i tanti magistrati antimafia, noi abbiamo ascoltato le forze dell'ordine che vedono vanificato il loro prezioso lavoro, molto spesso per il quale hanno sacrificato vita, famiglie, affetti e hanno messo a repentaglio anche la loro incolumità per fronteggiare la criminalità e oggi ricevono il messaggio che se il criminale si dichiara pentito può uscire. Noi non crediamo in questo, noi non crediamo che sia il caso di gargarismi garantistici con la mafia, noi crediamo che la normativa speciale contro la mafia abbia ancora oggi un valore, noi abbiamo tentato di difenderla e abbiamo tentato di difenderla, è termino Presidente, non da analfabeti costituzionali, perché i processi li celebriamo anche noi e non solo con le parti civili, quindi sappiamo come funziona la vita. Abbiamo tentato di difendela dicendo che se deve saltare la presunzione assoluta di pericolosità sociale introduciamo una tempesta di presunzioni relative, vincibili, con un reprobatorio rafforzato in capo al mafioso perché dal carcere ne esci se non sei più mafioso, se invece rimani mafioso e non collabori nella visione della destra in carcere ci rimani e ci muori.